E' stato revocato il divieto di dimora in provincia di Agrigento per Domenico La Porta, 63 anni, uno dei due verificatori dell'Enel coinvolti nell'operazione dei carabinieri alta tensione. Ad accogliere l'istanza dell'avvocato Aldo Virone, il GIP del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella, che ha disposto per La Porta l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. L'indagine condotta dai carabinieri alta tensione, durata quasi due anni e partita il 1 ottobre 2014, aveva portato all'inizio di questo mese all'ordinanza di divieto di dimora in provincia di Agrigento per due verificatori Enel, il già citato Domenico La Porta e Giovanni Truppiano, che dovendo scovare eventuali furti di energia elettrica, sono stati accusati invece dagli inquirenti di avere fatto il contrario, cioè di essere stati loro stessi gli autori di truffe ai danni della stessa Enel. L'indagine aveva portato anche all'obbligo di presentazione alla polizia di una donna canicattinese coinvolta anch'essa nella vicenda. In totale sarebbero 20 le persone iscritte nel registro degli indagati.